Siamo molto esasperati perché nessuno ci tutela e nessuno ci aiuta. Abbiamo fatto di tutto, allarmi, serrande, salacinesche, abbiamo speso soldi che alla fine nessuno ci ha ancora tutelato, nessuno fa niente. Le forze dell'ordine fanno il loro lavoro ma purtroppo non riescono a prenderli. Anche se li prendono con le leggi italiane, saranno dentro forse una settimana perché per un furto e con scasso gli daranno una settimana e quindi questi continuano a fare quello che devono fare, rubare. Sono stanchi di vivere e lavorare accompagnati da un pesante senso di insicurezze residenti e commercianti di San Polino. Gli episodi di criminalità e vandalismo sono ormai all'ordine del giorno nel quartiere della zona est di Brescia e sono in molti a credere che ormai la situazione sia sfuggita di mano. Oltre ai furti non mancano episodi di grave inciviltà ai quali nessuno sembra essere in grado di far fronte. Qui è diventato un quartiere che è stato abbandonato dal comune, è stato abbandonato dalle società che ha costruito questo palazzo perché non pagano le spese condominali, non puliscono, dobbiamo pulire noi i nostri pezzi, dobbiamo pulire i pezzi anche degli altri ma purtroppo non riusciamo a farlo. C'è tutto sporco, vede anche lei per terra, ci sono carte, cartacce, urinano da tutte le parti, sporcano, fanno di tutto. Rompono vetrine, l'altra sera hanno rotto quella lì di vetrina, stamattina l'hanno rimessa su e non so cosa fare. Abbiamo telecamere che riprendono e quindi non si può sapere come si fa ad andare avanti qua. Per chiedere più controllo da parte delle forze dell'ordine e delle autorità preposte alla sicurezza, nei giorni scorsi è partita una raccolta firme. Da pochi giorni è già possibile firmare, siamo già quasi a 400 firme, quindi vuol dire che il problema è sentito abbastanza nel quartiere, non vogliamo rimanere isolati, non vogliamo rimanere inascoltati. In questa raccolta di firme chiediamo più attenzione per quanto riguarda la sicurezza, ma anche e soprattutto un incontro con le istituzioni, quindi con il sindaco e sarebbe auspicabile anche con l'assessore alla sicurezza.